Ciao a tutti, sono Carlo Feola ed interpreterò il quartiere nella notte di un nevrastenico. Oggi abbiamo iniziato le prove e siamo qui nella sala risonanza del parco della musica che ci ospita e l'ambiente è positivissimo perché siamo tutti ragazzi e tutti amici e vi aspettiamo il 30 settembre e il 1 ottobre a Rieti al Teatro Flavio Resbasiano. Ciao! Ciao!